Ragazzi, allora, buon buon giorno a tutti, vi ricordo al 19 sarò in live sull'altra piattaforma, come sempre. Parleremo anche di questa cosa qui, piccola parentesi, siccome molti mi hanno attaccato perché la difesa 3, ma non è vero, ma l'Ipsia tra l'altro contro l'Atletico Madrid, l'Ipsia è passato con la difesa a 4, possiamo dire mascherata a 3, quello che vogliamo. Comunque, vabbè, poco importa. L'Atletico Madrid, ho sempre detto che è una squadra a livello tattico, una squadra brava tatticamente, riesce e potrebbe riuscire anche a battere una squadra più forte, ovviamente l'Ipsia non è la squadra più forte. Nella partita secca, però, conta molto di più il coraggio e conta molto di più a livello europeo, ovviamente, la tecnica che ci si mette e la filosofia di gioco che ci si mette, molto. Quindi, sotto questo aspetto, poi ripeto, le eccezioni ci sono sia per la difesa 3, sia per quanto riguarda magari il cosiddetto, tra virgolette, catenaccio, gioco speculativo, quello che volete. Stai fatto, ragazzi, che poi magari vincerà l'Ipsia, quello che vogliamo. Nella partita secca, comunque, avete visto, alla fine ha vinto il gioco propositivo, un certo tipo di gioco che richiede l'Europa rispetto al gioco attendista di Simeone. Molte mi dicono, mi riportano, ma Simeone ha vinto una Liga Spagnola, non puoi dire che è sopravvalutato, anche Ranieri ha vinto una Premier League, ma non è un grande allenatore. Ha fatto due finali di Champions, sì, ma anche il Tottenham e il Dortmund hanno fatto una finale di Champions, quindi non è che... Infatti, i due allenatori che hanno fatto due finali ne hanno perse, sono Allegri e Simeone, che hanno lo stesso modo simile, insomma, di giocare. Che poi non avessero la squadra più forte, quello che vogliamo, ok, però sicuramente hai ancora meno possibilità in quella maniera lì. Poi, trasciamo tutto. Io ripeto, la difesa 3, poi mi hanno detto, sì, ma dipende come la... Allora, ragazzi, io ripeto, con la difesa 3 e con il centrocampo 2, sì, certo, ci sono varie predisposizioni, bisogna vedere gli interpreti, quello che volete. Però poi, quando giochi contro la squadra forte con il centrocampo a 3, che ti attacca e ti trovi in inferiorità numerica, già che sei tecnicamente magari più debole, rischi ancora di più le imbarcate, perché magari sono anche più veloci di te. Al di là di questo, quando prendi i contropiedi, diciamo, con la difesa 3 ti trovi quasi sempre in inferiorità numerica e ti trovi anche scoperto molte volte. Quindi, per questo dico, eh, ma non è solo un discorso di conti, è un discorso in generale, ragazzi, è un discorso in generale. Poi magari io auguro all'Ipsia di vincere sempre così, vedremo, però io ripeto, al di là dell'Ipsia, che non è una grande squadra, io dubito, e infatti io non sarei contento qualora Pirlo mettesse la difesa 3, ve lo dico qua. Sono da una parte fiducioso, perché la difesa 3, penso, non la metterà, perché non hanno anche gli interpreti giusti, a parte Bonucci e De Miral, che sono gli unici di due che hanno giocato con la difesa 3, al di là di Chiellini, che è un ex giocatore, ma non penso, diciamo, penserà a due giocatori con uno a 33 anni, e De Miral, che comunque torna ad un infortunio, come perni della difesa con una difesa 3, De Litt ha giocato con una difesa 4 alta, De Miral potrebbe imparare all'età per farlo, per imparare appunto a giocare con la difesa 4, e anche, poi non so come giocherà Pirlo, insomma, per quanto riguarda la difesa alta o bassa, adesso non so, però comunque, in generale, non ha i giocatori giusti per fare la difesa 3, secondo me, poi vedremo chi prenderà la Juventus sul mercato. Vabbè, fatta questa grande premessa, parliamo di questo scambio Pogba e Dybala, allora, a me hanno detto che Pogba e Dybala non capiterà mai, 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 perché la filosofia di quest'anno della Juventus è non andare sulle figurine, abbassare, come vi ho detto, a parte l'età, anche il monte in gaggi, quindi Pogba dovresti prenderlo e dargli un ingaggio di 20 milioni l'anno, perché ne prende 16, quindi dovresti andare ad aumentare, Dybala ne prende 7 e ne chiederebbe 10, 15, 15 lui ne chiederebbe la Juventus, in questo senso, a parte questo, Dybala non lo vorrebbero dare via con scambi la Juventus, non lo vorrebbe dare via facendo scambi, lo vorrebbe dare via per cash, è molto difficile che dopo questo periodo, insomma, ti diano cash, quindi quantomeno 2-3 giocatori, 2 giocatori sarebbe già buono, questo sicuramente, più magari cash, però, al di là di questo, la Juventus non vorrebbe, non vorrebbe fare questa operazione, perché sarebbe come, magari, ok, ti rinforzi in centro campo, che è il nostro reparto debole, però ti, cioè non è che, diciamo, dai via un giocatore per lo stesso prezzo, e quindi non hai la possibilità di cercare, quantomeno di completare la rosa il più possibile, perché non è solo un problema di centro campo, ve lo ripeto, è un problema soprattutto di centro campo, ma non solo di centro campo, quindi questo va sottolineato, ragazzi, a me hanno detto che Pogba e Dybala, per molti motivi, non capiterà mai, è solo una notizia buttata lì a tutto sport, quindi, è giusto non crederci, io, come vi ho scritto in community, non ho fatto un video, però ieri mi hanno riportato queste notizie, al di là di Gosens, che per me, probabilmente sarà lui il primo acquisto a Juventus, ma al di là di questo, questa è la mia sensazione, i tre giocatori veri e propri, che sono un obiettivo della Juventus, in questo momento, di tutti i nomi che si fanno, sono Gosens, De Paul e Awar, questi sono gli unici tre in questo momento, poi vedremo se verranno fuori altri nomi, però giusto per farvi un po' di, siccome mi dite, ma cosa c'è di vero su quello, sull'altro, su quell'altro, vi dico questi tre nomi, Gosens, De Paul, Awar, punto, per il momento, poi vedremo, ok, non è detto che arrivino, o arrivino tutti e tre, quant'altro, però, gli obiettivi principali di Juventus, dovrebbero essere questi, perché in questo momento, io vi dico, quello che mi riportano a me, però, di certo, c'è che nessuno ha certezze, in questo momento, secondo me, neanche la società, quindi, vabbè, trasciando questo, piccola frecciatina un po', anche allo giocolo duro, che ha fatto un video, che Andrea Zoli, sa, è il nostro primo allenatore, perché Pirlo sarà la figurina, a me dispiace dirlo, ma non sarà così, si può criticare la scelta, perché magari Pirlo, è un tuffo nel vuoto, quello che vogliamo, ma Andrea Zoli ha 66 anni, quindi non penso, venga, mandato via, un allenatore di 60 anni, per prendere un altro, da, di 66 anni, che è stato esonerato, dal Genoa, a novembre, praticamente, penso proprio di no, insomma, dai, cerchiamo di essere seri, ripeto, si può discutere, ma vabbè, i milanisti stanno un po', rosicando, perché Pirlo ha scelto la Juventus, piuttosto che il Milan, ma semplicemente perché, al Milan, lo ha già spiegato, al Milan non ha più compagni, se non che, Maldini, ok, detto questo, vi auguro buona, saluto a tutti, mi raccomando, mettete mi piace al video, seguitemi dopo, ovviamente, in live, sull'altra piattaforma, sempre comunque, fino a fine, forza Juventus, comunque, sintesi, Pogba, Di Bala, Di Bala, Pogba, Mai.